Regini, perso 3-2 in casa contro il Terni, che partita hai visto? Ho visto una partita un po' corrente alterna da parte nostra, sapevamo che era un impegno estremamente difficile perché comunque loro sono secondi in classifica, hanno dimostrato di avere delle ottime individualità e anche un buon collettivo. Siamo riusciti a tratti a fare quello che bisognava fare, quindi mettere sotto pressione in battuta per riuscire a tenere il loro attacco e purtroppo a tratti non ci siamo riusciti. Nel primo set siamo partiti molto contratti e l'ultimo set, il tie-break, è stato punto a punto fino a un momento decisivo. Un paio di ingenuità da parte nostra, un paio di battute sbagliate dopo il 10 del tie-break. Purtroppo sono errori che non possiamo concedere a questo tipo di avversari perché dopo loro non perdonano. E così è andata. Magari venerdì uno ci avrebbe messo la firma a fare qualche punto con questa squadra qui però poi visto come si era messa la partita ci avevamo sperato, ci avevamo creduto di fare, perlomeno vincere anche se non il punteggio pieno. Ci darà delle basi per ripartire, deve essere un punto di partenza sicuramente non uno d'arrivo. Sappiamo che possiamo competere con tutti, perlomeno in casa insomma possiamo competere con tutti nonostante il fatto che non siamo più la squadra all'inizio anno nonostante tante lacune che ci si presentano per colpa della formazione diciamo un po' rimaneggiata. Dobbiamo crescere col gioco dei centrali senza ombra di dubbio perché stasera si è vista una netta differenza fra i nostri centri e loro e questo forse è il punto più debole che abbiamo in questo momento. Ci lavoreremo. Il campionato è ancora molto lungo, siamo alla terza giornata del girone di ritorno quindi considerato che c'è da fare quasi tutto il girone di ritorno più il playoff c'è tanto tempo per poterci lavorare, per poter sperare di ottenere un posto in regular season migliore di quello che c'è attualmente. Massari vinto contro il Nato Selci 3-2, partita molto tribolata. Esatto, purtroppo sembrava andare tutto bene fino all'inizio, per l'eccezione dopo ha mollato e hanno preso le misure l'altra squadra quindi abbiamo sofferto molto questa fase. Dopo bravi bravi, bravo bravo il nostro capitano che ha tirato su tutta la squadra bravissimo secondo me anche il nostro libero che ha ritirato sulla ricezione e grazie a loro ho potuto giocare bene al centro e secondo me è stata la chiave finale per vincere questa partita. Speravamo qualcosina di meglio però veniamo da due partite un po' così, l'andamento tenevamo un bel ritmo dopodiché tra un po' la stanchezza, un po' gli infortuni ed altro abbiamo mollato però questi sono buoni segni per ritornare a quel livello insomma ecco. Adesso che cosa avete? Adesso se non sbaglio abbiamo Bastia in casa e l'obiettivo è chiaramente vincere e riprenderci in attimo questa serata abbastanza dura diciamo. Francesco Longo, come va la macchina nuova che adesso è un mese che l'abbiamo data, come va? Va va, la macchina va, consuma un po' eh, però va va. Il 1.6? 1.6, turbodiesel, diciamo che siccome è un po' il serbatoio piccolo quindi va anche poco carburante però va e questo grazie alla Valla Volo e a tutti voi.